Allora, assessore, qual è la situazione per questi ragazzi che dovrebbero arrivare qui a Ponte Sasso? La Regione Marche e anche la nostra provincia ha una quota di rifugiati che devono essere accolti. Ovviamente noi abbiamo cercato, in collaborazione con la Prefettura, di fare in modo che ci sia sempre una presenza equilibrata anche in termini numerici e quindi questo fa sì che anche visibile nel territorio di Fanno, per esempio, ci sia una presenza abbastanza contenuta in tre strutture che sono quelle di Magliano, Belgatto e Ronco Sambaccio Il Comune di Fanno, come per esempio il Comune di Pesaro lo ha fatto per un altro tipo di struttura, ha ritenuto opportuno partecipare cercando di poter dare una risposta diversa rispetto a quelle approssimative date fino adesso che a volte non tengono conto neanche dei numeri precisi, partecipando a questo bando per minori non accompagnati. La Labirinto e l'Irslaurora sono quelle che hanno vinto questo bando. Però siamo in attesa ancora della risposta del Ministero rispetto a se verremo individuati come Comune per questo tipo di struttura oppure no. Quindi non è certo che vengano? Esistono buone possibilità che venga accolta questa richiesta, però è vero che ancora non abbiamo fatto un incontro con la comunità locale potendo dare la certezza o delle risposte anche rispetto alle caratteristiche di questa esperienza perché ancora la risposta definitiva non è stata data. Sono minori e quindi non escono in modo diciamo caotico nel territorio, non aumentano, sono moduli di 16 più 16 quindi 32 minori, faranno un percorso fino alla maggiorità dopodiché ecco andranno verso altra destinazione.